Sono stati segnalati questa mattina dai residenti della zona di Tombaccia a Fano alcuni giochi che presentano segni di rottura e cedimento strutturale, mettendo a rischio di conseguenza l'incolumità dei bambini all'interno del parco. Sì, in questo senso è evidente la cosa perché basta guardare come sono le altalene, l'unico gioco funzionante, come dicevo, è lo scivolo e gli altri giochi che c'erano non ci sono più, non esistono più perché erano rotti e li hanno portati via, sono rimasti senza. E poi per il resto ci sono le porte del calcetto che sono pericolose perché sono legate nella rete in quanto andrebbero in avanti, quindi al più presto secondo me sarebbe da prendere provvedimenti. Inoltre nella strada adiacente al parco il residente del quartiere ci ha segnalato anche la situazione degli alberi sporgenti, provocando a volte una limitazione del transito di camion e mezzi pesanti. Sì, gli alberi che sono qui alle spalle secondo me sono da tagliare perché in quanto pericolanti che hanno invaso oramai le due corsie, quando passano anche i camion dell'Ase trovano problemi perché sono oramai più alti dei rami, quindi bisognerebbe secondo me intervenire anche in questo senso.